ciao marcello ciao amici juventi nazi io sono stravolto e mi dispiace insomma di non poter commentare un altro risultato anche questa volta la coppa dalle grandi orecchie ci sfugge all'ultimo minuto nel momento in cui pensavamo di poterla portare a casa non lo so cosa ci è mancato e non so se davvero un problema di maledizione visto che sta diventando una brutta consuetudine quella di non riuscire a vincere le finali certamente mi è sembrato che forse alla fin dei conti al di là delle motivazioni e delle forze in campo il real madrid fosse ancora più forte di noi per questo io mi sento comunque di ringraziare la squadra per averci portato a cardiff anche se forse è tornata troppo presto via da cardiff lasciando il secondo tempo in mano a real madrid e al nostro mister allegri consapevoli che noi all'inizio dell'anno forse speravamo di essere tra le migliori in europa ma non contavamo di poter avere una finale già dopo due soli anni dall'ultimo appuntamento però una volta che ci arrivi e bisogna comunque essere più forti di tutto ci manca ancora questo io sono fiducioso che la nella prossima stagione ricaricheremo le pile e torneremo ad essere ancora una volta competitivi sperando che quella coppa delle grandi orecchie non sia poi così lontana e torneremo a sollevarla presto in ogni caso sempre forse io